Siamo in giù quasi così per vedere cosa voleva dire, no? Come stai arrivando? No, proviamo! Ho giusto il stesso gusto, e tutti quelli che arrivano di nuovo, e non malo che adesso, perché l'altro non c'è benissimo, quindi per dire quanto si guarda e quanto afferma, no? Il numero grosso è che la gente chiede sempre di continuare a venire, perché c'è un sistema anche che funziona. Torna! Forza-forza ragazzi! Ma non si va a minare al corte o con un orgoglio, a fare le varie forzate, ma si sa che lì non c'è quando non c'è situazione lì, e poi ci sa anche una roba per aiutare, ci sa le pulizze, i pregatori, i tarampoli, che ci vuole qua! La ragazza! Si è privata nella gara! La ragazza! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.